Questo video riguarda i migliori tre tappeti bagno. Il vincitore della qualità nel nostro tappeti bagno va al set tappeti bagno. In un locale come il bagno, fortemente soggetto all'umidità, con il pavimento che può presentarsi spesso umido e scivoloso, il tappeto riveste un ruolo importante in fatto di garanzia della sicurezza ed incolumità delle persone che lo frequentano. La funzione del tappeto in bagno è quella, principalmente, di evitare che l'acqua goccioli sul pavimento, dunque l'assorbimento può essere definito il fattore numero uno. Utilissimo il fondo antiscivolo, per proteggervi dalle cadute e per assicurare un o. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il sparco scarpe. Suola in filo né fondo in gomma resistente agli oli e idrocarburi. Resistenza allo scivolamento di livello SRA. Assorbimento di energia sul tallone. Fodera in mesh traspirante. Punta con rinforzo S-BOA Vistat ultra resistente. Metal free. Allacciatura easy lacing. Soletta traspirante in memory foam. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premio nel scarpe da uomo stile urban è il Suprastex Vulk 2. Il design moderno delle scarpe da skate è stato dato un nuovo taglio più sottile. La sua suola vulcanizzata garantisce una presa migliore e una sensazione classica sulla tavola. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.